Grazie a tutti. Per presentare il libro Attraverso, attraverso le opere registiche di Chiara Mutti e le fotografie di Silvia Lelli. Una brevissima presentazione. Chiara Mutti, attrice, autrice, regista, è nata nella musica e continua a vivere nella musica. Silvia Lelli, architetto e la fotografa culto dell'opera da quando nel 79 iniziò la sua carriera al Teatro La Scala. Addirittura dal 78 segue il maestro Mutti. Quando io ho visto questo libro ho pensato che fossero fotografie intrise di musica. La prima domanda che vorrei fare, diciamo che il libro racchiude sei lavori registici di Chiara Mutti, dal 2012 con Santa Susanna di Intemit a Ravenna, fino al Così fan tutte, Napoli, Teatro San Carlo 2018, ma soprattutto Teatro Regio di Torino 2021. La prima domanda per entrambe. La regia e la fotografia è più un lavoro di scrittura o di riscrittura? Iniziamo da Chiara. Allora, è più un lavoro di scrittura o di riscrittura? Beh, in questo libro ci sono entrambi, perché la scrittura è un po', diciamo, quella traccia che io creo quando delineo, cercando di interpretare appunto le opere che mi sono commissionate. È un lavoro che faccio di scrittura, perché mi metto, ascoltando la musica, a immaginare appunto una mia storia nella storia, nel rispetto appunto dell'armonia musicale, ma che respiri di un senso che io voglio dare al lavoro che decido di interpretare. La riscrittura è sia riscrittura dell'opera stessa, perché è riscritta appunto quindi dal mio immaginario, ma riscrittura anche di Silvia, che in un certo senso, come io scrivo e riscrivo, lei stessa scrive e riscrive, perché scrive, traccia in maniera architettonica delle posizioni per dare un senso a quello che poi sarà lei, a dirlo meglio di me, ma io trovo che in entrambe scrittura e riscrittura possono combaciare in questo attraverso, nel quale appunto attraverso un'immagine c'è il racconto di una storia che parla di musica e che parla di teatro. Sì, Chiara ha detto molto bene. Sì, scrittura e riscrittura e nel mio caso è molto un lavoro di interpretazione, perché alla fine quello che fa Chiara su una partitura, su un testo, su un'opera, è qualcosa che io poi a mia volta devo interpretare con la conoscenza profonda di quello che vado a fare. Cosa vuol dire? Che per me sono importantissime le prove ed è importantissimo l'ascolto. Ecco, questo è fondamentale. Diciamo che fotografare è forse l'ultimo anello, l'ultimo no, ma il penultimo, perché è attraverso l'ascolto che io capto quelle che sono le intenzioni di Chiara in quell'opera. A mia volta però poi io naturalmente interpreto e ridò in immagine qualcosa, fra l'altro ridò perché pensiamo sempre che l'immagine è bidimensionale e muta e quindi questa è la grande sfida, che poi è quello che mi piace, tentare di ridare la musica attraverso un'immagine muta. Quindi quanto è importante il gesto? Cioè in ogni frammento, in ogni scatto c'è un primo, un mentre e un dopo, però chi guarda vede solo quello scatto. Il primo e il dopo io lo conosco e devo interpretarlo perché possa a sua volta essere letto ed essere un unico in quello che è il significato dell'opera. Quindi è sì, scrittura, riscrittura, interpretazione ed è anche un modo per evocare poi la musica. È come se lei riuscisse a captare i climax delle mie regie, nel senso che per quello che io adoro le sue foto, ho sempre adorato e ammirato il lavoro di Silvia, ma questa cosa che lei ha, incredibile, di bloccare la foto in movimento, che pochissimi possono fare perché fanno dei garbugli, invece lei appunto la foto della copertina lo dimostra, questo gesto di Orfeo che sta perdendo appunto per sempre un ridice, quindi luce e ombra, questo braccio alzato. Silvia capisce i punti chiave del mio spettacolo stando alle prove e forse anche trovandosi in sintonia col mio lavoro che comunque viene appunto dalla scuola di Streller dove il gesto era sempre musicale e c'era una grande, quasi della danza attraverso la recitazione che viene richiesta ai cantanti o agli attori. E quindi lei, io mi ritrovo quando guardo le sue foto, come diceva Fellini per esempio, diceva che capiva i suoi spettacoli, che capiva i suoi film quando ascoltava la musica di Dino Rota, dice questo, diceva, cioè io a volte capisco i miei spettacoli, se hanno veramente funzionato o se hanno marcato, quando vedo quei momenti figé là di foto di Silvia nei quali capisco che la traccia stilistica, la forza espressiva, sono là, sono per sempre nero su bianco, in memoria di quel gesto vitale che è stato e che a questo punto ci sopravviverà e questo è anche commovente, la forza della fotografia, è vera memoria del teatro. Quindi Chiara, le capita di scoprire qualcosa di inedito dei suoi spettacoli attraverso le fotografie di Silvia? Sì, cioè strano, non è inedito nel senso che io so che lei cerca quei punti che ha capito che sono i punti chiave, ma mi sorprendono sempre, perché intanto perché il fatto che sia immobilizzato in quell'attimo gli dà una specie di, infatti l'inobilità in un certo senso, perché il teatro, la forza del teatro è anche quella di essere effimero, di andare a teatro, di vedere questa cosa fluire e di avere delle memorie nella mente, ma il fatto di vederlo per sempre lì triplica il messaggio che io ho cercato di dare, quindi in un certo senso Silvia nobilita il mio lavoro. Devo dire che anche lo scopo, secondo me, del mio lavoro, per me un fotografo deve essere in grado, un fotografo di spettacolo, di performing arts, deve essere in grado di far vedere quello che nel fluire dello spettacolo tu pubblico, tu persona che lo vedi però non sei in grado di vedere, e che mi ha sempre colpito del lavoro di Chiara, perché io ho seguito nella mia carriera, che ormai è lunga, tantissimi registi grandissimi, Ronconi, Pissi, non parliamo poi della danza, e tantissimi altri, e Strayler. E Strayler è strano, perché io sono arrivata a Strayler negli anni in cui lui ha affrontato l'opera. Gli anni precedenti, anni 70, per me era un regista un po' fra virgolette vecchio, lo tenevo un po', io lo seguivo all'avanguardia teatrale. Quando lui, essendo alla Scala, io lo seguivo come regista d'opera, tra l'altro con opere dirette dal maestro Mutti, lì per me è stata l'apertura di un mondo, una rivelazione, e quindi proprio una passione per quello che faceva. Quando poi ho ritrovato in Chiara tutti questi elementi, ma con una persona giovane, in grado di avere uno sprint diverso e una grande capacità immediata di capire nel materiale fotografico, cosa che è rarissimo nei registi, immediatamente qual è l'immagine giusta. Molte volte il regista, anche grandissima testa, intellettuale, si sofferma su particolari insignificanti, non riuscendo a prendere magari il tutto. E con Chiara c'è stata questa sintonia immediata, per cui immediatamente abbiamo detto, beh perché no, perché non parlo. Io ho sempre chiesto a Silvia di venire, di seguirmi, lei l'ha fatto, ha trovato sempre i tempi, abbiamo anticipato sempre le nostre date, in modo da trovarci appunto, e mi ha sempre seguito dal primo lavoro e ci ho sempre tenuto perché ci siano dette, guarda un giorno quando arriviamo a un tot di numero, di produzioni, dobbiamo fare assolutamente un libro, perché per me la memoria non è, mi ero sempre detta, anche prima del Covid, che per me la memoria teatrale non era certamente quando riprendere l'opera o il teatro per la televisione. E purtroppo invece oggi ci ritroviamo, per dire, al Teatro Reggio, quest'opera che il pubblico aveva potuto appunto godere a Napoli, qui appunto dovrà adattarsi per ora allo streaming. Se questa è la resistenza dalla quale dobbiamo passare, lo faremo, però si spera al più presto. Però con le opere, con le fotografie anche rimanderemo. Esatto. Però sì, sì. Grazie al Teatro Reggio si è riusciti. Infatti, allora questo Così fan tutte è un nuovo motivo di incontro. Lei l'ha messo in scena, lei l'ha fotografato, che cosa c'è di nuovo? Ogni rappresentazione, ogni messa in scena è nuova. Ma in questo caso, che cos'è cambiato? Beh, intanto cambiamo noi, perché ogni anno che passa, pare che anche biologicamente siamo praticamente diversi. Quindi, in più, in questa annata c'è successo il putiferio, tutto ciò che non avremmo mai immaginato, ma ci saremmo mai immaginati che ci dicessero alla che ora dovevamo uscire, di piazzarci una mascherina sulla faccia, fra un po' cosa mangiare, cosa no. C'è praticamente, tutta ad un tratto, la perdita totale della libertà. Per gente che come noi fa un lavoro nel quale la libertà, la creatività, è una scelta, divisa. Sì, è proprio, deve essere, è al primo posto. È chiaro che noi ci siamo trovati totalmente scombussolati. Quindi, io ho avuto un'annata, e immagino anche Silvia, cioè, poi Silvia lavorando con la fotografia è diverso, ma io, che devo lavorare in teatro, il teatro è stato totalmente impattato d'opera, soprattutto con l'orchestra, con le grandi masse. Quindi, abbiamo perso una quantità di lavoro mostruosa. Io avevo tante produzioni, adesso mi sono saltate almeno sei produzioni, eccetera. Quindi, mi sono ritrovata con tanto lavoro pronto. Ti ricordi che te ne avevo parlato di tutto. Come dobbiamo partire anche per Vienna, però dovevamo fare tante date. Insomma, e si è tutto, quindi è chiaro che tutto ciò è cambiato. È cambiato, e nel momento in cui devi ricostruire un lavoro che avevi fatto in tempi non sospetti, è chiaro che ti ritrovi... Per me, intanto, è cambiato che lavorare in un teatro vuoto già di per sé impatta la creatività e la performance, perché noi comunque abbiamo bisogno di un pubblico per riuscire. Infatti Silvia mi diceva, era interessante, mi diceva ieri, mentre fotografavo la Generale, mi sono resa conto che là, quando va a scovare, non chi canta in quel momento, ma tutti quelli che sono in piano d'ascolto, sentiva proprio la perdita della tensione. E questo, dal punto in teatro, si sente. Nel senso che le persone che sono, appunto, in quel momento non attivamente... È un po' di energia. Certo, è inevitabile, perché quell'energia è l'occhio, lo sguardo di una moltitudine di individui su di te che ti dà e che ti tiene viva l'esigenza di dare il massimo. E questo, per noi teatranti, è terrificante. Quindi noi cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio. Sono curiosa di vedere le foto, cosa mi racconteranno, perché sicuramente nella traccia delle foto scoveremo un po' di questa, diciamo, mollezza. O diversità. Sì, di questa... Sì, diversità. Devo dire che c'è una cosa che qui mi è piaciuta subito e che è lo spazio. Perché lo spazio di questo teatro... Sì, è particolare. ...è particolare. Sarà che adoro mollino, sarà che... È uno spazio particolare e che mi ha ricordato un po' i teatri giapponesi, quelli che fanno opera, perché sono più... Sembrano, non so, non ho preso le misure... Sì, abbracciano di più. Ma ti dà l'idea... È uno dei più grandi d'Europa. Sì, ti dà l'idea di questo spazio diverso. E quindi anche per me, che l'avevo fotografato a Napoli, un teatro meraviglioso, ma un'altra cosa, in questo spazio delle differenze forti. È chiaro che poi... È un teatro che in questo momento deve lavorare in un altro modo. Lavora per lo streaming. Sono due cose diverse. È l'unica cosa che possiamo fare. Quindi adesso si sta lavorando... È chiaro, sta lavorando per una regia in video e quindi di conseguenza anche le foto sono un'altra cosa. Anch'io spero che non sarà in futuro così, perché altrimenti dovremmo cambiare veramente i nostri modi di... E codici narrativi. Sì. Io sono sempre aperta a qualsiasi possibilità. Quindi voglio dire, cerchiamo di prenderlo anche come qualcosa di positivo. Sicuramente è un teatro con uno spazio scenico molto interessante, secondo me. Qualcosa per chi vedrà Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, che lo vedrà in streaming, perché sarà l'unico modo di vederlo. e meno male che c'è comunque. Sì, meno male che c'è. Meno male che c'è perché... Diversamente non ci sarebbe stato. Perché il fatto che ci sia lo streaming significa che il teatro ha risuonato in questi 40 giorni di musica. Di energia. Esatto. E quindi il teatro deve vivere di quello. Io devo dire che durante le prove, tutte le volte che, soprattutto certi passaggi di una incredibile altezza espressiva, come suave sia il vento, di scrivermi ogni giorno, e nel tuo, e nel mio bicchiero, tutti questi quintetti, o quartetti, o terzetti, di un livello... Ecco, lì io ogni volta che li sento intonare, anche durante le prove, anche quando sono cantati a mezza voce, lì mi rendo conto del perché voglio fare questo... cioè perché sono innamorata del mestiere che faccio, nel senso del grande privilegio che abbiamo di poter ancora ascoltare questi grandi compositori che sono poi la forza della nostra... di quello che siamo, come Europa anche proprio, come cultura europea, e di poterli far poi arrivare al pubblico. È chiaro che sarà in streaming, noi abbiamo comunque dato il massimo, cercherò di rispettare comunque lo sguardo che in teoria avrei voluto che lo spettatore avesse, quindi cercando di fare una regia video che rispetti al massimo la mia idea, appunto, di quello che in teoria lo spettatore dovrebbe, come Silvia fa con il suo obiettivo, di correre là a scovare, appunto, le cose che in fondo sono fondamentali per il mio racconto della storia, e spero veramente che resista anche il pubblico come noi resistiamo, per poi ritrovarci presto a teatro tutti insieme. Grazie. Quindi appuntamento online con il Così Fan Tutte di Mozart, con la direzione di Riccardo Muti, l'Orchestra del Teatro Reggio di Torino, il Corro del Teatro Reggio di Torino, e la regia di Chiara Muti. Protagonisti stupendi. Segue Locandina. Grazie. Grazie.